del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003 numero 229. Tuttavia, l'articolo 2,2 del predetto codice del consumo, nel prevedere che ai consumatori e agli utenti è riconosciuto come fondamentale il diritto ad un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, potrebbe costituire la base per azioni collettive di quanti si ritenessero danneggiati dal clickbaiting, cioè in base alla previsione dell'articolo 140 bis,2 lettera C del codice del consumo, come integrato dal decreto legge numero 1.20012, convertito con modificazioni dalla legge 27 2012, secondo cui possono intraprendere azioni di classe quanti ritengono di aver diritto al ristoro del pregiudizio derivato da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. Da ultimo, al momento non si è dato avvio a iniziative legislative che abbiano ad oggetto la regolamentazione e la limitazione della pratica del clickbait. Tuttavia, sarà a cura del Governo monitorare il fenomeno in parola e rendere note eventuali proposte normative in merito. Grazie. L'onorevole Coppo, la facoltà di chiedere se si è soddisfatto per la risposta alla sua interpellante. Sì, grazie, sono soddisfatto. Prendo atto che non è possibile configurare come pubblicità ingannevole, però prendo atto appunto che il problema è considerato, è un problema che va studiato e approfondito. Sottolineo che se forse è vero che non servono ulteriori norme o forse questo lo decideremo e lo deciderà il Governo. Mi sembra evidente dalla relazione della Vice Ministra che la pratica è inaccettabile, è deprecabile, non c'è alcun motivo eticamente accettabile perché venga utilizzata. L'unico motivo risiede nella volontà di aumentare i propri introiti a spese dei cittadini. Magari una spesa minuscola, nel senso del tempo di fare un clic, ma sicuramente eticamente non accettabile. Grazie. Grazie a lei. Allora, dovremmo passare ora all'interpellanza numero 2417. Chiedo gentilmente all'Onore Daga e alla Vice Ministra Bellanova se fosse possibile andare direttamente a quella dell'Onore Daga perché abbiamo un problema con il precedente, se la Vice Ministra si organizza per... Va bene? Ok. Allora, passiamo all'interpellanza urgente 2.418 dei deputati Daga ed altri, concernenti intendimenti del Governo, in merito ad interventi anche in raccordo con gli enti territoriali relativi al sistema idrico della Regione Umbria ed iniziative di competenza a tutela dell'ambiente. Prego, Onore Daga. La ringrazio, Presidente. Allora, in quella splendida e già fin troppo devastata zona dell'Umbria che si chiama Valnerina, che è in provincia di Terni, è stato redatto il progetto definitivo dell'acquedotto sistema acquedottistico Ternano-Amerino, che prevede la captazione di una nuova risorsa idrica nei comuni di Scheggino e Ferentillo, da Durri a Serra.